Cercate una guardia del corpo? Ho lavorato per i gangsta rapper piuttosti, Key Lolo, Senobi e lavoro per Tupac anche se è morto. Sono nei servizi segreti israeliani. Sono da Nianto! Io specco la faccia a chiunque si avvicini. Beh, non la cercate più. Sono Drillbit Taylor. Sono stato guardia del corpo di tre vicepresidenti, Bobby Brown e Sylvester Stallone. Allora, da chi vi serve protezione? Sono Dai Bulli. Aiuto! Sapete che cos'è? Questa è un'ala protettrice. Nessuno vi toccherà qua sotto. È inquietante molto. Facendo ricorso alla mia abilità nel camuffamento, mi infiltrerò nella scuola. Che cosa insegna? Letteratura. Diamo una ripassata. Non esistono solo le arti marziali orientali, c'è anche il judo messicano. Via! Via, via, via! Mi piace davvero qui. Hai fatto un ottimo lavoro. Levati, lasciami capo libero. Sembri un vero insegnante così. Lasciate in pace questi ragazzi. No! Non è funzionato! Da gli autori di Molto Incinta. Quello è il mio insegnante. Cosa? Owen Wilson. Drill B. Taylor. Mi piacciono quei ragazzi. L'ho detto, il cicciottello è simpatico. Che cosa è questa novità di dormire nudo? Non mi va che l'elastico mi strizzi il sedere tutta la notte. Non. Chi тот погибi. Che cosa è la景. Don me know what they say.